Buonasera a tutti, complimenti a Lugano. Passo la parola al signor Travezzano. Grande soddisfazione per il risultato di oggi e per la prestazione che hanno fatto i ragazzi contro, secondo me è la squadra che gioca meglio, delle squadre che sono davanti, perché reputo il Lucerna che ho visto sino a questo momento a livello di gioco e di preparazione, quindi faccio veramente i complimenti a Marc. La squadra che mi piace di più rispetto al Sion, rispetto a Young Boys e al Basilea che abbiamo già incontrato e oggi dovevamo fare una super partita per portare a casa un risultato positivo e mi ha fatto molto piacere che sia successo, perché venivamo anche noi da due sconfitte, quindi la classifica per noi in questo momento è ancora fondamentale. Grazie, grazie. 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 Grazie Interseg, è stata una migliore mannza, è stata una positiva oggi, è che l'ergebniso non è mai più alto, siamo oggi non in modo da fare un pollo che abbiamo avuto, abbiamo un pollo trage, abbiamo inizialito, abbiamo inizialito il nostro spielo, e questo non è proprio non è possibile, e poi è anche un giusto come giusto come giusto. Tutte ma leid per gli spettatori che oggi con ho ho erwartamento, che normalmente sono anche giovani, perché la squadra ha un altro rischio, ma oggi ha ciò che non è già un rischio che non è sufficiente per questo spielo come oggi, dove devi stare bene, dove devi investire molto, per l'inizio anche come si al giugno. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.